Giamborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Pazzesco, 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 pazzesco al San Paolo e il Napoli perde In casa contro il Lecce sta perdendo 1-3, mancano pochi secondi E non so se cambierà qualcosa, quindi nel senso poi andremo a scoprirlo Ma per il momento il Napoli sta perdendo un altro risultato secondo me molto pesante Che va a mettere sulla graticola Gennaro Gattuso Perché vuoi o non vuoi anche alla luce degli ottimi, buoni risultati Ottimi risultati, ottimi ultimi risultati del Napoli Vabbè ma comunque in ogni caso questo risultato secondo me è talmente pesante Che comunque lo mette a rischio anche perché il Napoli non è che sia in una posizione favorevole di classifica Esempio, la Roma in questo momento forse perché è graziata dal Cristo Redentore È quarta, quinta, è quinta, è quinta, è quinta, l'Atalanta ha vinto, è quinta E la Roma verde con Bologna, con il Genoa, con un po' tutti, con il Torino dal 2020 Non cacci Fonseca perché la Roma è lì, a meno 3 dalla Champions Se settimana prossima c'è lo scontro diretto Però se c'è la tua squadra è tipo decima, secondo me rischi Ora non sto giustificando il fatto che il Napoli debba esoterare Gattuso Ci mancherebbe altro Perché è appena arrivato, se non dai tempo ad un allenatore di approcciare non combini nulla Però sto cercando di farvi capire che qualora il Napoli decidesse di farlo, qualora De Laurenti si decidesse di farlo Secondo me non sarebbe nemmeno così clamoroso come poi magari scriverebbero sui giornali Ora, parliamo della partita in sé Anzi, prima vi dico una cosa Iscrivetevi a questo canale se non l'avete fatto perché ragazzi prima un'iscrizione è molto importante E lasciate un mi piace, soprattutto voi sapete che cosa ne pensate Se secondo voi il Napoli dove arriverà, in che posizione Anche alla luce di questo risultato Al di là di ciò vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social network Quindi Instagram, quindi TikTok, quindi i miei podcast su Spotify O anche le mie canzoni su Spotify E seguitemi sul mio secondo canale Oggi è uscito il post partita in cui parlavo appunto della vittoria del Sassuoli in rimonta sulla SPAL Ecco il Lecce da una bella botta a livello di bassi fondi della classifica Perché il Genoa sta vincendo Ora non so se cambierà risultato ma il Genoa sta vincendo 1-0 Ha segnato... Non mi viene? Ha segnato? Non mi viene Mi verrà ma non mi viene Vabbè, il Genoa sta vincendo 1-0 Ora, tra l'altro il Cagliari e Marana si sta coprendo Sta levando giocatori offensivi per mettere giocatori difensivi Non sto capendo cosa sta succedendo Sarà che l'ho vista poco attentamente Ho visto più il Napoli Però vabbè Dall'altra parte Sta vincendo il Brescia con il gol di Bisoli Ha segnato poco fa proprio E 1-0 quindi Quindi vince il Brescia Quindi vince il Lecce Quindi vince il Genoa Quindi la SPAL ha perso Attenzione perché sotto si ribalta un po' tutto Detto questo Il Napoli Non lo capisco Non lo capisco Va detto anche che oggi comunque gli ha detto tutto male Quello che poteva dirgli gli ha detto male È pazzesco È veramente pazzesco Il calcio di rigore Vogliamo parlare del calcio di rigore? Allora non voglio espormi troppo Perché è difficile da Secondo me è difficile da capire Nel senso che L'errore secondo me grande lì è di Milik Perché se Milik fosse cascato normalmente Era Milik Mi pare che era Milik Se Milik fosse cascato normalmente Probabilmente il calcio di rigore sarebbe stato concesso Il discorso secondo me che va ad ingannare Guia È che Milik praticamente sembra che gli abbiano sparato dalla curva Ok? È quello il discorso Allora io da arbitro Che non sono arbitro In senso io se fossi un arbitro Guarderei appunto il fallo Se io vedo che un calciatore casca in modo innaturale È normale che io non do rigore Io studio queste cose Se fossi un arbitro studierei queste cose E quindi saprei che se un calciatore cade in un certo modo È innaturale e quindi sta simulando Ora avvisto a velocità naturale Secondo me quello di Milik è una simulazione Ok? Poi Poi Che lo tocca Va bene Però sbaglia Milik Perché secondo me non puoi Lì ragazzi Milik si tuffa Ok? Viene colpito ma si tuffa Tu non puoi lanciarti come un faggiano alla ricerca della tua identità Ok? Bastava cascare Se Milik Toccato che fosse cascato Secondo me Guia avrebbe dato il rigore Poi non so cosa ha detto Non so non ho capito Si provava male a leggere la labiale Non si è capito un cazzo Si ha detto Era fallo di mano Oppure decido io Oppure era fuori gioco Oppure Mi moglie Trampola raggiungo Oppure dai che te ciò voglio mangiarmi la pasta e facioli Non lo so cosa abbia detto Guia sinceramente Fatto sta Che il calcio di rigore Non è stato concesso Fa due gol La Padulla Che la Padulla non aveva mai fatto due gol Tranne in una partita in tutta la sua carriera In Serie A Pazzesco tra l'altro Seconda doppietta in carriera per la Padulla La fa a Napoli al San Paolo La prima La prima l'aveva fatta Boh vado a memoria A un momento era la seconda Mi ricordo con il Milan Che era l'Udinese L'Empoli Forse era l'Empoli Forse era l'Empoli Forse l'aveva fatta a L'Empoli Negli anni del Milan E poi basta Poi non è più capitato Che abbia fatto doppietta E torna a fare una doppietta Veramente ragazzi I casi della vita La Padulla che fa doppietta al San Paolo Seconda della carriera Nel massimo campionato E poi E poi Mancosu Allora Mancosu ragazzi Io senza parole Senza Cioè questo è entrato 75esimo Che era 76 È entrato Quarto torno dalla fine Entra Pallone lì Piazzato Punizione Regà punizione Proprio la disegnata Che manco i giochini per il telefono Gli entra in porta Palo Gol Lì Ovviamente poi Ospina non è che poteva fare Cioè il singhiozzo Ospina non è che poteva fare Granché Però ragazzi Ma che grande giocatore è Mancosu Ma che grande giocatore è Mancosu Ma che grande giocatore è Mancosu Che poi è clamoroso Perché Quest'anno La differenza E mi fa poco strano Ve lo dico Poi da romanista Mi fa ancora più strano La differenza Sostanziale Sta nel fatto che Squadre come la Roma Come il Napoli Ma anche l'Atalanta in sé Perché l'Atalanta Ora la vedete lì Sta correndo tanto Ma ha perso punti per strada Anche in modo abbastanza Eddicolo Cioè andate a guardare indietro L'Atalanta ne ha persi I punti per strada Poi Ovviamente distruggi il Torino 7 a 0 In casa loro Batti il Milan 5 a 0 Quello che ti è capito a tiro Riesci ad arare È normale È normale Che il tuo star power salga E che quindi Quello che girava intorno all'Atalanta Un po' si tolga Però se l'Atalanta è lì Solo a tre punti sopra la Roma Ne abbiamo perso punti con tutti Beh secondo me è abbastanza normale Che abbia perso punti per strada Ecco l'Atalanta Come la Roma Come il Napoli Magari la riprendono Perché vedete Tipo la Roma La Roma Sotto 2 a 0 Sotto 2 Che cazzo Sotto sì col Sassuolo Sotto 3 a 0 col Sassuolo Fa il 3 a 1 Però Il discorso qual è? Pensa di riaprirla Ci riprova Ok Il discorso è che poi ricrolla Cioè non sono Non ci sono quelle squadre Anche tipo oggi Io dico Il Napoli pareggia con il Lecce Adesso in casa Che cazzo vogliamo dire Il Napoli fa golla La butta dentro E porta a casa i tre punti E no E no E no Perché il Lecce Risponde colpo su colpo Cioè il Lecce Due anni fa Tre anni fa Il Lecce che sta vincendo 1 a 0 Si chiude dietro E vabbè succede pure quest'anno Il Lecce che prende 1 a 1 Si chiude ancora di più Tutti arroccati Tipo Con Spada E Scudo Perché hanno paura Di essere penetrati All'ultimo E invece quest'anno No Quest'anno il Lecce Si getta in avanti Alla ricerca del nuovo gol Perché il pareggio al San Paolo Gli basterebbe Ma non gli basta adesso Ma non gli basta Ma vuole per forza Fino alla fine Provare a portarla a casa Poi addirittura il 3 a 1 E la cigliogina sulla tortora Fatemi vedere Se è cambiato qualcosa Nel finale Ecco Si ha segnato Ha segnato Cagliecon Mi è arrivata la notizia Ha segnato Cagliecon Aspettate da un'occhiata Eeeh Tata Allora Sta caricando Vabbè un gol Ha fatto Cagliecon 2 a 3 Finita 2 a 3 E ha pareggiato l'Udinese Allora è finita 2 a 3 Finita 2 a 3 Cambia poco E comunque risultato abbastanza pesante Io credo che Io ragazzi Credo che il Napoli In questo momento Andando anche a guardare la classifica Cioè io vado a guardare la classifica E il Napoli È undicesimo 30 punte A parte il Cagliari Sta a crollare Poi sta a crollare È una squadra a pezzi Però Il Napoli è undicesimo Cioè La Champions Dista 12 punti Sono tanti Ragazzi Sono tanti Addirittura era andata a meno 9 Io avevo paura Tremiamo qui e lì Boh è una sconfitta Che sinceramente Mi delude Mi lascia un po' È assurdo Comunque a pareggere Lo De Paul al 92esimo Pareggia De Paul Brescia Udinese 1-1 E poi appunto Il Genoa Che sta vincendo 1-0 Con il Cagliari Ha segnato Goran Pandev Ecco Chi cavolo era Non me lo ricordavo Ha segnato Goran Pandev È andando a corda I bassi fondi Adesso il problema Ce l'ha la spalla Anche grande Perché la spaccia 15 punti Brescia 16 Genoa 19 Lecce 22 Quindi La linea della salvezza In questo momento La detiene il Lecce Con 22 Il Genoa sta a meno 3 E però regale altre Ciaone Le altre Ciaone Ciaone Il Brescia Sta a 16 punti Vuol dire che Praticamente Dista 6 punti La salvezza E 7 per la spalla Ecco Sono due squadre Devono cominciare a correre Perché altrimenti Secondo me Potrebbe finire Prima che mai Il sogno Che fino ad adesso Il Genoa ha vinto Genoa che Si sta riprendendo Anche abbastanza Agevolmente Se tiene una scorsa Ha fatto 2-2 Gole ad avanti Ecco Parliamo anche un po' Di loro Perché Parliamo un po' Anche delle altre squadre Perché se lo meritano Però Generalmente È questo il discorso Così che magari Non c'è il big match Ma ci sono altre partite Magari ne parlo E manca Adesso effettivamente Manca il Brescia Che sta 1-1 L'udine Sono al 96esimo Ma adesso non la sto guardando Sto solamente aspettando I risultati Ecco Balotelli L'ho messo al fanta Ma aspettavo sinceramente Che Balotelli facesse qualcosa Cioè Santidio Addirittura hanno cambiato Allenatore Ho detto Vuoi che con l'allenatore nuovo Vuoi che con l'arrivo De Diego Lopez Balotelli adesso non esploda Non diventi un giocatore forte Giocatore di pallone Non si faccia convocare all'europeo No Te pare che si fa convocare all'europeo E anche oggi Non ha combinato nulla Al Cagliari sta andando tutto male Poi si sono rotti tutti Primo tempo Stava a vedere Sono scegli due Spaccati Tipo 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 Aspetta Ora lo cerco Ecco Il cacciatore farà go Quindi nel senso Il Cagliari sta andando male Però Comunque non è ancora finita Non è ancora finita 96 non è finita Vabbè Niente Babbè Sono rotti con gli uomini Aspettiamo un'altra Vabbè aspettiamo Nel frattempo ragazzi Qua sotto sul Napoli 1 Seguitemi sul secondo canale Link è in descrizione Seguitemi su Instagram Seguitemi su TikTok Seguitemi su Spotify Seguitemi sulle canzoni Trovate tutto in descrizione E lasciate un'iscrizione a questo canale Lasciate un mi piace Fate tutte le cose che dovete fare Grazie E' finita Vabbè Perfetto E' finita Vi ringrazio Ho visto questo video Buonasera all'alene come sempre Ci stiamo Ciao raga